Una pista ciclabile a Scauri, questo l'obiettivo che si è prefissato il gruppo Critical Mass che attraverso la raccolta firme intende sensibilizzare l'amministrazione comunale alla realizzazione di un percorso ciclabile nella località. Il gruppo che si sta facendo conoscere attraverso i social network è ormai numeroso e vanta incontri di pedalata collettiva che hanno fatto via via registrare sempre più un crescente numero di partecipanti. Fissato già il prossimo appuntamento per domenica 5 gennaio con le Befane a pedali per aspettare la buona nonnina pedalando insieme e regalando dolcetti ai piccoli ciclisti. La pista ciclabile stiamo raccogliendo le firme, c'è un po' di gente, abbiamo molti consensi a quanto vedo, la cosa va bene. Penso sia un grande risultato vedere che la gente partecipa a questo tipo di iniziative e capisce che magari c'è qualcosa di più di un semplice pedalare dietro tutto questo. Io vi ho seguito su internet, sui social network, è tutto iniziato quasi per caso come un gioco ma sta prendendo spessore e c'è una grande risposta dagli scauresi e nonna perché sembra quasi un bisogno della popolazione globale di scauri. In effetti sì, è nato come hai detto tu per gioco, non proprio per gioco però insomma resta comunque una cosa divertente e simpatica però ha un suo spessore diciamo e quindi speriamo che saremo sempre di più in questa cosa. La percentuale di persone che sia ha partecipato alle pedalate e sia che viene qui a firmare è sempre maggiore e contiamo di essere tantissimi insomma. Il progetto però è concreto, c'è una mappa, c'è la possibilità di dare il proprio contributo mettendo le firme per presentare questa proposta di delibera e come è possibile avvicinarsi per chi oggi non ha potuto firmare per venire a firmare per dare la sua partecipazione? Allora per firmare a parte il mercatino qui di Natale che comunque oggi è l'ultima data, poi noi che siamo i promotori abbiamo sempre con noi moduli per le firme e poi ci sono tre punti, tre esercizi commerciali che in pratica hanno dato la disponibilità per raccogliere le firme che sono Gelo Sud a Scauri sulla Via Appia, Crazy Style Parrucchieri che è sempre sulla Via Appia e Orlando Moto ancora sulla Via Appia proprio su. Quindi in questi tre punti è possibile ogni giorno firmare e poi chiunque incontrassi uno di noi un po' ci hanno conosciuto insomma quindi ci riconoscono e possono firmare da chiunque di noi e dare il loro contributo se vogliono, se sono dalla porta. Allora sulla Scauri a due ruote, quelle dove si pedala, tanti auguri di Buon Natale, sulla Scauri a due ruote. Buon Natale a pedali diciamo, pedaliamo un po' che fa bene.